Il Decameron di Boccaccio, qui vedete delle immagini, una dell'edizione del Decameron e una della novella di Nastaggio degli Onesti, che alcuni di voi faranno e che ha delle evidenti analogie, abbiamo già detto ieri, con la storia con la storia degli sciolacuatori nell'inferno, nel senso che c'è una caccia infernale Una caccia infernale, sì, sì, ho parlato della Divina Commedia Degli Gnari, sì, sì La frase degli Gnari, a memoria, cioè comunque non ti curare di loro ma guarda, ma c'è passa, una cosa del genere Allora, non ci curiamo di questo, oh, degli Gnari Concentriamo la nostra attenzione invece sul Decameron Anzitutto il titolo, il titolo è grecizzante più o meno, dovrebbe significare nel greco un po' approssimativo di Boccaccio dieci giorni, conferma l'amore di Boccaccio per quella lingua è modellata sull'exameron di Sant'Ambrogio Sant'Ambrogio aveva raccontato i sei giorni della creazione un testo religioso evidentemente adesso invece Boccaccio racconta dieci giorni di novelle cioè dieci giornate in cui dieci giovani fiorentini insomma decidono di passare il tempo novellando raccontandosi delle novelle per quanto riguarda la data di composizione la peste del 1348 offre un ovvio termine di riferimento per l'inizio della stesura dell'opera post-quem sicuramente dopo il 1348 è stato scritto secondo Vittore Branca questo straordinario studioso che ha scritto quel libro vi ricordate Boccaccio medievale importantissimo essa fu iniziata nel 1349 completata nel 1351 per Battaglia Ricci bisogna datare la composizione qualche anno più tardi insomma come si dice qua terminò forse già entro il 1351 terminò di scrivere De Cameron forse già entro il 1351 ma secondo altri fino anche al 1353 già nel 1360 abbiamo delle attestazioni del successo del Decameron che era già conosciuto è parecchio diffuso la cornice ecco il Decameron è un libro molto particolare perché abbiamo un proemio un'introduzione insomma in cui parla il nostro poeta parla Boccaccio che se vogliamo è quindi il narratore il primo grado e gli racconta di una storia di dieci giovani che appunto durante la peste in Fiorentina la peste nera del 1348 avevano deciso di recarsi nel contado per passare in modo onorevole quel tempo della peste e quindi sono questi poi narratori di secondo grado che raccontano le novelle mentre il narratore di primo grado è Boccaccio stesso questo non basta perché troveremo addirittura delle novelle in cui i personaggi racconteranno a loro volta e quindi è tutto un intercalarsi di narrazioni che si intrecciano l'una con l'altra allora dicevamo Decameron raccolta di 100 novelle che racconta come durante la peste che nel 1348 devasta Firenze una brigata di sette fanciulle e tre giovani attenzione abbiamo detto attenzione particolare alle donne prevalenza delle donne rispetto agli uomini nel Decameron anche semplicemente per il fatto che sono sette le donne e tre gli uomini in questa allegra brigata di nobile condizione sociale per favore metti via metti via subito se è un ragazzo che quando ti dice una cosa non la fai subito devi farla subito perché questo crea automaticamente la possibilità di una nota sul registro nel momento in cui vi si richiama e voi non cambiate subito atteggiamento è chiaro che questo potrebbe causare immediatamente una nota sul registro allora stavamo dicendo sono nobili sono gentili sono emblematici di quelle virtù cortesi della cortesia della gentilezza che albergavano a Firenze nel periodo precedente adesso un pochettino sono state dimenticate ahimè allora questa brigata cerca scampo dalla malattia dalla distruzione di ogni corretto vivere civile la degradazione morale che viene emerge soprattutto nel momento della peste ritirandosi in una villa incampata come passatempo i giovani raccontano delle novelle ogni giorno viene letto un re che decide il tema della giornata vediamo alcune cose importanti da dire sul Decameron con questa mappa concettuale cosa fanno i personaggi del Decameron nel Decameron decidono di trascorrere le giornate conversando passeggiando giocando cantando con delle azioni onorevoli quindi non in modo disonorevole questa è una cosa da sottolineare perché molti potrebbero sparlare di loro perché si tratta di giovani che non sono neanche sposati e che quindi potrebbero abusare della situazione invece no invece trascorrono il tempo in modo molto onorevole soprattutto narrando uno per uno una novella bene allora le giornate le giornate le storie ecco questa parte qua la rivedremo con una slide apposita la politica qual è insomma l'ordine perché loro decidono che non hanno più i genitori li hanno persi molti di loro hanno perso i genitori e i parenti per via della peste eppure decidono di di vivere in modo ordinato regolato questo da un certo punto di vista è l'esatto opposto del signore delle mosche di William Golding in quel romanzo i giovani i ragazzi quando sono da soli vivono in modo istintivo vivono in modo bestiale invece nel Decameron questi giovani da soli decidono di creare delle regole e seguono queste regole l'argomento storie divertenti comiche tragiche di cosa racconta Boccaccio immagina che nel periodo della peste questi dieci giovani si ritirino in una villa sulle colline nei pressi di Firenze ecco queste sono cento novelle che cosa vuol dire da quale tradizione provengono queste novelle allora la novella nella storia della letteratura italiana nasce nel Trecento quindi è un genere nuovo recente il primo libro di novella è quello da cui abbiamo letto anche una novella è il novellino del 1280 se non erro abbiamo letto la novella di Cristiano Esotto breve la novella è breve in prosa ma la storia è reale o immaginare quali sono le fonti dovete sapere che la novella nell'ambito orientale pensate alle storie della Mila e una notte era molto diffusa quindi abbiamo come fonte anche questa cioè le narrazioni di origine orientale musulmana i fabliò si tratta invece di raccontini di origine francese in versi scherzosi e osceni sì osceni però loro non dicono che potrebbero essere giudicati perché sono giovani sono nelle novelle alcuni argomenti sono un pochettino loro nel loro modo di comportarsi sono sempre integerini quello che raccontano certe volte va un po' al di là della morale ufficiale era questo quello che volevi dire certo però come vedremo anche in quei casi c'è un fine di dascalico un insegnamento un insegnamento giunge anche dalle novelle che possiamo dire più boccaccesche insomma un pochettino più sconce se vogliamo altre fonti sono di esempio insegnamenti morali tratti dalle vite dei santi quelli scritti nell'epoca medievale o in epoca romana tratta dalle vite dei magnanemi vi ricordate che anche lui stesso lo stesso boccaccio ha scritto delle opere del genere cioè i casi degli uomini illustri oppure le donne famose ma fonti di boccaccio sono anche le fiabe popolari o gli aneddoti tramandati oralmente la genesi dell'opera l'abbiamo già detto è stata scritta più o meno negli anni tra i 48 e i 53 vi mise in mano più volte anche in seguito ma solo per rimaneggiarle diciamo che la sostanza ormai c'era tutta quanta al massimo nel 1353 boccaccio si basa su narrazioni raccolte e anche su esperienza di vita fatte a Napoli e a Firenze quindi voi ad esempio quelli che leggeranno e presenteranno la novella di Andreuccio da Perugia ambientata a Napoli oppure quelli che leggeranno la novella di Guido Cavalcanti ambientata a Firenze capiranno quindi che viene fuori anche dalla sua esperienza in questo testo boccaccio conobbe nei decenni precedenti genti di ogni stato sociale nazione e professione e questa conoscenza del mondo sicuramente ha molto ispirato le novelle di boccaccio la struttura c'è un proemio nel quale dedica l'opera le donne in pena d'amore cioè dice io faccio proprio quest'opera per le donne spesso sono le donne infatti ad essere come abbiamo visto poco fa proprio parlando di una delle sue opere cioè l'Elegia di Madonna Fiammetta spesso sono le donne ad essere tradite ad essere abbandonate e lui scrive quest'opera per consolarle una cornice poi che racconta della peste a Firenze e di questi dieci ragazzi che si riuniscono in fine le dieci giornate dieci novelle per ogni giornata quindi in totale cento novelle bene come vedete come abbiamo spiegato c'è una specie di scatola di matrioska o scatola cinese no per cui i narratori si intrecciano fra di loro sì amatoska russa però ci sono delle scatole cinesi in cui una racchiude un'altra una racchiude un'altra è un po' la struttura è un po' questa perché nel proemio quindi nella invenzione diciamo del poeta si racchiude la storia della cornice che viene raccontata dal poeta ma poi i ragazzi della cornice raccontano le cento novelle dieci novelle al giorno allora dicevamo della cornice che non si trova solo all'inizio e alla fine del decamero ma compare all'inizio di ogni novella e all'inizio al termine di ogni giornata serve al boccaccio per prendere le distanze dal mondo delle novelle farle raccontare dai diversi punti di vista dei ragazzi ecco ovviamente il fatto che ci siano cento novelle potrebbe rendere dispersivo l'opera dispersiva l'opera di Boccaccio il decameron ebbene la presenza di questa cornice dà unitarietà invece all'opera sì 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 ok allora il fatto che ci sia questa cornice aumenta diciamo così i piani narrativi per cui non è Boccaccio che sta raccontando ma sta raccontando qualcun altro e questo potrebbe essere anche utile ad esempio vi faccio un esempio molto concreto Dioneo è quello che racconta le novelle un pochettino più sconce e quindi come se lui desse anche la colpa un po' a lui questo tale Dioneo che non a caso si chiama così un termine che nella mitologia richiama proprio l'amore sensuale è lui che ha un po' questa caratteristica ed è colpa sua se poi vengono dette certe novelle adesso un po' come Manzoni con l'anonimo benissimo adesso avete capito molto bene quindi che cosa vuol dire prendere le distanze giusto però è sempre lui certo il problema è proprio questo l'unità nella varietà c'è molta varietà nel Decameron eppure c'è ovviamente qualcosa che poi riconduce ad un'unità in ogni giornata però c'è posto per una novella di argomento libero uno dei tre giovani Dioneo può scegliere qualsiasi argomento per le novelle da raccontare Dioneo è tra i tre giovani quello un pochettino più bizzarro e dice va bene d'accordo io ci sto a raccontare novelle sto a tutte quante le regole che voi mi volete imporre però mi dovete concedere primo di raccontare per ultimo e quindi l'ultima novella di ogni giornata sarà raccontata da Dioneo secondo mi dovete concedere permesso di raccontare di quello che voglio io liberamente e di non seguire per forza il tema imposto dal re o dalla regina del giorno due giorni della settimana venerdì e sabato qualcuna di Dioneo la Griselle l'ultima novella quella che leggerò io quella che spiegherò io è una delle novelle raccontate da da Dioneo l'ultimissima in realtà no non è sconcia quasi per niente quasi per niente perché in realtà la nostra Griselda fa un'allusione erotica piuttosto pesante al suo marito però ecco eventualmente sappiate che potremo anche leggere raccontare o sintetizzare il professore vi potrà anche raccontare altre novelle oltre a quelle che si sono sul vostro libro stiamo dicendo come? quella di Dioneo ok attenzione il fatto che dieci giorni siano occupati dalle novelle non vuol dire che loro sono stati dieci giorni nella villa in realtà nella villa ci sono stati due settimane questo perché il venerdì e il sabato la narrazione viene sospesa per motivi religiosi durante il venerdì giornata in cui si ricorda la morte di Cristo non si può passare giorno novellando il soggiorno infatti dura quindici giorni da un mercoledì a un altro ma le giornate di narrazione sono dieci inoltre due giornate la prima e la nona non sono vincolate ad un tema adesso approfondiamo il discorso in ogni giornata però c'è posto per una novella di argomento libro quella di Dioneo ogni giornata è suggellata da una ballata cantata a turno dai singoli novellatori ecco questa è un'altra un'altra mappa concettuale sul Decameron il proemio è Boccaccio che racconta parla in prima persona dice di voler divertire le donne che hanno nobiltà d'animo e soffrono e soffrono d'amore insomma il Decameron è dedicato alle donne poi c'è la cornice e le novelle che hanno una struttura aritmetica si ripete più e più volte il numero 10 come simbologia della simmetria e proporzione medievale ogni novella introdotta da una rubrica noi diremmo un abstract una sorta di riassuntino che presenta la vicenda in sintesi ogni giornata ha un'introduzione e una conclusione la conclusione contiene una ballata e le riflessioni dei giovani ecco oltre al proemio è importante la conclusione finale che Boccaccio usa per difendersi dalle accuse di immoralità e quali sono i protagonisti e i temi di queste novelle ecco per esempio nelle novelle troviamo molto spesso il mercante che fa del denaro la propria ragione di vita oppure preti chierici ecclesiastici è chiaro che in questo caso abbiamo una polemica anticlericale soprattutto una polemica contro quelli che sono preti dovrebbero essere religiosi e invece dedicano la loro vita a tutt'altro la fortuna è un elemento imponderabile ingovernabile che è presente nella vita di tutti l'intelligenza l'astuzia serve all'uomo per dominare questa fortuna l'amore è una forza della natura cui non si può resistere ben godi o ben godi è sogno di abbondanza impossibile per la povera gente specialmente nel 1300 la cortesia e la nobiltà rappresentano i valori del passato spesso sono associati all'amore è la donna c'è il riconoscimento del ruolo attivo indipendente non esiste più la donna angelicata dello stilnovismo ma è una donna reale l'unitarietà dell'opera è data anche da un preciso disegno morale le prime novelle rappresentano infatti una critica ai vizi dei potenti le ultime invece come la Griselda di cui parlavamo prima un elogio della cortesia la prima novella Sergio Appelletto quella che presenterete voi quindi è come una sorta di grande inferno se vogliamo cioè se vogliamo anche nel De Camero c'è un percorso morale si parte dall'inferno di Sergio Appelletto che racchiude in sé tutti i sette vizi capitali fino ad arrivare alla beatitudine di Griselda che è la donna perfetta la donna più cortese che possa esserci si caratterizza per l'amore umile totale per il suo marito se vogliamo quindi questo è uno schema lo schema tipico della commedia in cui si parte vi ricordate nella Divina Commedia si parte dall'inferno quindi dall'uomo nel peccato fino ad arrivare al paradiso ambientazione l'ambientazione varia ai comuni le crociate mercanti anonimi umili di ogni ceto ma anche papi imperatori poeti pittori reali come Calandrino che è un pittore realmente esistito è una vera commedia umana un romanzo della società dice Battaglia uno studioso raramente le novelle sono inventate da Boccaccio il più delle volte lui ha raccolto abbiamo detto le varie fonti vi ricordate citate all'inizio e poi ha reinterpretato attraverso queste novelle evidenza i caratteri dei personaggi li ambienta nella società medievale ebbene Boccaccio cerca di vedere tutti gli aspetti dei vari sentimenti abbiamo visto l'amore l'amore in tutti gli aspetti quindi non per esempio vi ricordate a senso unico il Petrarca ma se vogliamo anche gli sinnovisti no in tutti quanti gli aspetti l'amore quando è brutale quando è eroico quando è totale quando è comico quando è erotico quando è disinteressato o al contrario quando è molto interessato quando è tragico quando è distruttore redentore è puro rubato pagato sognato amore tradito amore geloso amore devoto amore cortese come quello di Griselda amore nobile e amore carnale la fortuna dicevamo è un'altra protagonista del Decameron si intende per fortuna il caso la sorte c'è una concezione medievale secondo la quale la fortuna è dispensatrice capricciosa di beni terreni la fortuna è cieca la fortuna non guarda in faccia a nessuno e la fortuna diciamo quindi è capricciosa ebbene questo lo vedremo ad esempio soprattutto nella novella di Andreuccio da Perugia porta ad un continuo cambiamento di situazioni l'uomo deve prendere coscienza della caducità dei beni terreni deve cercare di adattarsi alla sorte e cercare di insomma di cambiare a seconda a seconda delle situazioni e questo avviene l'abbiamo già detto grazie all'intelligenza quindi alla furbizia all'astuzia dell'uomo si va dall'astuzia istintiva alla coscienza razionale Boccaccio apprezza quando con furbizia o intelligenza l'uomo si trae d'impaccio e anche crea giochi e crea scherzi Allora stavamo dicendo quindi dell'intelligenza si va dall'astuzia istintiva alla coscienza razionale Boccaccio apprezza quando con furbizia o intelligenza l'uomo si trae d'impaccio e anche crea giochi e scherzi come vedremo ci saranno giornate intere dedicate ai motti di ingegno e ci saranno giornate intere dedicate alle bestre quindi agli scherzi ci sono anche le vittime quindi ci sono anche gli sciocchi dicevamo che ci sono anche le vittime ci sono gli sciocchi dal momento che l'intelligenza è una delle tematiche principali presenti all'interno del Decameron è chiaro che ci sono anche le persone come Calandrino di cui voi leggerete la novella che invece sono prive di questa intelligenza e quindi cadono nei tranelli e allora è giusto che gli amici come dire facciano degli scherzi a Calandrino anche se certe volte sono degli scherzi piuttosto crudeli perfino violenti perché Calandrino ha meritato questo perché non ha usato l'intelligenza che è caratteristica dell'uomo ecco a proposito degli studiosi che leggono il Decameron e che studiano il Decameron ci sono due correnti di pensiero la prima corrente di pensiero ritiene il Decameron un'opera che rompe con la tradizione medievale e inizia il rinascimento l'umanesimo del rinascimento e quindi secondo questa corrente Dante era medievale perché in lui prevale il soprannaturale il divino eccetera in Boccaccio invece che secondo loro è umanista preumanista eccetera l'uomo è calato nella sua realtà terrena ed artefice delle sue sorti la seconda corrente di pensiero invece ritiene che ci siano stretti rapporti con la tradizione la letteratura le fonti e le idee del Medioevo in Boccaccio i valori etici e cristiani medievali per esempio anche il concetto di fortuna come abbiamo spiegato sono tipici volevamo dire di questo periodo medievale questa teoria è più recente è frutto degli ultimi studi allora secondo voi noi dobbiamo seguire una teoria più remota che appartiene a studiosi che hanno scritto opere in precedenza o dobbiamo seguire gli ultimi studi oh benissimo in conclusione bravissimo in conclusione si può dire che Boccaccio rielabora gli insegnamenti medievali riportandoli senz'altro sulla realtà terrena ma come ha detto Vittore Branca risulta essere uno scrittore medievale gli aspetti medievali sono la struttura della cornice dell'opera la simbologia numerica il numero 10 le fonti letterarie gli aspetti umanistico rinascimentali sono l'interesse per la realtà per la vita sociale l'esaltazione di virtù laiche come l'intelligenza e la furbizia l'amore considerato naturale e non peccaminoso nel romanzo scusate volevo dire nella raccolta di novelle di Boccaccio è molto presente la società mercantile ricordate che lui era figlio di un borghese di un mercato aveva lavorato per il banco quindi per dei banchieri Boccaccio vive nel periodo di piena ripresa dei commerci la sua opera è un'epopea delle virtù del mercante delle virtù pratiche concrete del mercante quindi dicevamo Dante scusate il Decameron e qui c'è un errore di stampa il Decameron è l'opera che meglio interpreta la borghesia mercantile e il suo attivismo il nuovo eroe Andreuccio da Perugia è il mercante che affronta le difficoltà ne esce con intelligenza e furbizia e quindi all'inizio ingenuo Andreuccio da Perugia ma attraverso questo percorso di formazione che è dato dalla realtà dell'esperienza diventerà furbo e astuto la nobiltà è presente anch'essa la aristocrazia feudale è una classe in declino nel 300 l'ideale cavalleresco impersonato da eroi del passato c'è però una nuova aristocrazia quella dell'animo dei valori cortesi della gentilezza della generosità per cui persino i borghesi si impossessano dei valori che erano tipici della nobiltà dell'aristocrazia nel periodo precedente e ne fanno una caratteristica loro tipica peculiare possiamo trovare persino cortesia e gentilezza anche nella gente più umile quindi nelle classi sociali più umili perché questa nobiltà si può trovare in tutti quanti i ceti attenzione approfondiamo il discorso sulla religione certamente c'è una forte critica al mondo ecclesiastico che specula sull'ignoranza del popolo in particolar modo pensiamo a frate cipolla che riesce a distorcere i denari dai fedeli con delle reliquie false ma ce ne sono tantissimi altri insomma in questa raccolta di novelle però c'è rispetto per la religione la religione viene rispettata abbiamo detto quindi che Boccaccio che poi diventerà addirittura chierico rispetta la religione certo non c'è più la trascendenza dantesca della divina commedia deridere il mondo ecclesiastico comunque non vuol dire non rispettare la religione ma solo riportarla in terra quindi fare un discorso piuttosto pratico di critica al modo di vivere concreto semmai degli ecclesiastici questi sono i tre livelli della narrazione del Decameron che abbiamo già comunque richiamato ecco i novellatori sono dei giovani che hanno nomi parlanti Pampinea per esempio la donna che prende proprio che fa la proposta insomma di andare nel contado e che prende l'eredi della situazione deriva il suo nome dai Pampini dell'uva poi c'è Filomena Neifile Neifile è una nuova innamorata quindi rappresenta probabilmente una donna che ha cambiato compagno Filostrato è abbattuto d'amore l'abbiamo già trovato in certe opere di Boccaccio Fiammetta l'abbiamo incontrata più e più volte questo nome nelle opere di Boccaccio Elissa invece richiama Didone quindi una donna tradita come Didone è stata tradita da Enea Dioneo invece richiama l'amore sensuale perché venere figlia di Dione Lauretta e invece Lauretta ci fa venire in mente Petrarca Ed Emilia questi sono i nomi parlanti dei novellatori l'ultimo Panfilo è un nome che più o meno nel greco approssimativo di Boccaccio significerebbe tutto amore tutto caratterizzato dall'amore come si vede anche i nomi dei dieci novellatori sono scelti con cura anche in relazione alla loro etimologia e al loro significato talora si richiamano le opere precedenti dello stesso Boccaccio ad esempio abbiamo già visto più e più volte nomi come Filostrato Panfilo e soprattutto Fiammetta comparire nelle opere precedenti di Boccaccio le dieci giornate la prima regina la regina della prima giornata è Pampinia che chiede di novellare su tema libero la seconda Filomena chiede di novellare di raccontare storie in cui dopo varie peripezie si arriva ad un lieto fine come proprio come l'Andreuccio da Perugia che dovete leggere voi poi c'è Neifle che chiede di raccontare storie in cui una cosa tanto desiderata viene acquistata o recuperata e spesso questa cosa tanto desiderata è anche ad esempio la donna o l'amore in generale Filostrato al contrario chiede di raccontare di storie d'amore finite male e qui noi leggeremo alcune delle novelle della quarta giornata per esempio Elisabetta da Messina è una novella della quarta giornata in cui si racconta di un amore infelice poi nella quinta giornata Fiammetta chiede di raccontare storie di amanti che superati una serie di ostacoli si ricongiungono è il caso di Nastagio degli Onesti e di Federigo degli Alberini ah leggeremo anche Pernice di Smonda che è un'altra storia infelice poi Elissa chiede di raccontare storie di persone che con una buona risposta sono sfuggite a un pericolo e qui leggerete parecchie storie quella di Cisti Fornaio di Chichi Biola Gru e di Guido Cavalcani Dioneola la settima giornata chiede di raccontare storie di donne che beffano mariti ed amanti a loro insaputa Lauretta nell'ottava storie di beffe reciproche tra uomo e donna poi nella nona Emilia nuovamente propone un tema libero ma i novellatori sono talmente tanto presi dalle storie di beffe raccontate nelle giornate immediatamente precedenti che gran parte delle novelle della nona raccontano di beffe come quella che leggerete voi di Calandrino e infine nell'ultima giornata Panfilo propone di novellare sul tema libero sull'amore o su altro e qui troveremo l'ultima novella leggeremo insieme l'ultima novella del Decameron La Griselda possiamo individuare dei legami fra i temi delle giornate per esempio il tema libero compare sia nella prima sia nella nona giornata oppure sono molto collegate fra di loro la seconda e la terza giornata perché nella seconda si pone a tema la fortuna il caso però già nella seconda vediamo per esempio ricordate Andreuccio da Perugia come riuscendo ad affrontare bene la sorte si riesce ad ottenere qualcosa ed è questo il tema principale della terza giornata cioè come attraverso l'industria cioè attraverso l'intelligenza l'operosità eccetera una persona riesce ad ottenere ciò che desidera ciò che desidera molto gli amori infelici della quarta giornata sono strettamente legati per contrasto questa volta con gli amori felici della giornata seguente la quinta i motti invece sono strettamente legati alle beffe insomma e quando una persona riesce con l'astuzia con l'intelligenza a ottenere qualcosa o attraverso un motto quindi attraverso una battuta oppure facendo uno scherzo a qualcun altro bene